4. Utilizzi le annotazioni di calcolo per correggere le incongruenze. I fatal error non consentono l'esecuzione del calcolo e devono essere risolti. 5. I fatal error segnalano anche la non conformità alle verifiche di legge. 6. I warning sono incongruenze che non inficiano il calcolo. 7. Rilevi in ogni messaggio, codice, descrizione sintetica e tavola di riferimento. 7. Selezioni il messaggio ed accedi al suo help con F1 della tastiera. 8. Stampi questa descrizione. 9. Evidenzi l'entità con doppio clic sul messaggio. 10. Rilevi in ogni messaggio. 10. Rilevi in ogni messaggio. 10. Rilevi in ogni messaggio.